Viveva a Carmignano di Brenta a Pioggiaretta e i lavori all'interno delle cave li conosceva bene, era il suo mestiere. Si trovava a Piombino d'Ese ieri pomeriggio all'interno della cava Ex-Siges, quando intorno alle 15, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, è precipitato volando giù da un parapetto dall'altezza di circa 3 metri. I soccorsi immediati, prima dei colleghi, poi dei sanitari del suo M118, che hanno fatto partire anche l'elicottero da Treviso, non sono valsi a salvargli la vita. Pioggiaretta, che indossava il caschetto di protezione ed era un addetto molto esperto, avrebbe battuto la testa su una putrella. La caduta non gli ha lasciato nessuno scampo. Le indagini sono affidate allo Spisal e ai carabinieri. Nel frattempo a Carmignano di Brenta, dove Pioggiaretta e la sua famiglia sono molto conosciuti, la notizia si è diffusa rapidamente. Era stato sposato con un'ex consigliera comunale Pioggiaretta, padre di due figli. Sarebbe diventato nonno a breve. Una tragedia che allunga la scia di morti sul lavoro. In provincia di Padova, seconda in Veneto come numero, da inizio 2023 le morti bianche sono state 6, 29 le vittime del lavoro in tutta la regione.